ciao belve è un piacere per me essere qui oggi per me è un giorno speciale perché è vero oggi è sabato 16 novembre 2019 io di solito il sabato non riesco mai perché sto con mia moglie e mia figlia ma solo per questo sabato il carceriere cioè mia moglie non vedrà mai sicuramente questo video mi ha lasciato libero uscita come mai perché andrò a provare una meravigliosa e bike ma qual è queste bike quale sarà dove andrò ma lo vedrete seguitemi passo dopo passo ciao belve ciao ragazzi rieccoci a noi una bella inquadratura della bici che proverò quale sarà però prima sono qui al mondo bici di fermignano questa è una panoramica delle biciclette elettriche e normali è un bel greggio di biciclette tutte stupende i meccanici ciao ragazzi bravissimi bravissimi eccezionali mondo bici di fermignano la proprietaria non c'è ma dopo saluteremo anche la tiziana e laggiù qual è la bici che proverò questa eccezionale mezzo che nevo expert 2020 qualche caratteristica doppia piastra da 180 firmata rock shox travel da 180 a dietro firmato sempre rock shox a molla batteria da 700 watt stupenda l'accensione dal modello che ho io che 2019 c'è la sopra e cos'altro dirvi stupenda bici da oltre 6.000 euro come andrà questo mezzo lo vediamo facciamo una breve panoramica vi salutiamo la titolare boccali no tiziana ciao buongiorno ciao ciao proprietaria del negozio ragazza stupenda come va stamattina no bene al di sopra delle aspettative è anche bel tempo perché la settimana è stata messo dai stamattina belli carichi partiamo adesso tra una mezz'oretta parte il primo test poi oggi ne facciamo tre domani due dai da lavorare insomma si abbiamo 150 prenotazioni quindi da gestire per cui dai bene quindi 150 vendite sicure ciao ragazzi tutto pronti per la partenza il gruppo è partito ci parte siamo una trentina di biker alcuni con le bike altri con le muscolari destinazione pietralata come si comporterà la canevo expert sicuramente bene partenza 8 e 38 il primo tratto è un tratto di asfalto e dopo ci metteremo in qualche sentiero questo è un posto dove non sono mai andato vediamo come sarà ci vediamo dopo ciao belve bene questo è il primo tratto di salita serio vediamo come si comporta la canevo expert in salita so già che sarà una bestia qui pietralata la salita è un po' sconnessa devo stare dietro al gruppo questi in massimo 1 km è un tratto di 500 metri tutto bene per adesso perso in piano il brutto deve arrivare io sono in modalità turbo vediamo come va qui inizia il tratto bello in salita eh tutto in salita adesso e vediamo come si comporta la canevo expert arrampica bene le gomme visinali tengono va su come se fosse in pianura il cambio è un orologio chiaramente una bomba questa che nevo 2020 non è come il 2019 che ha la batteria esterna ma è interna al telaio quindi anche quando si vorrà fare Enduro DH la batteria sarà ben protetta scusate ma questi viaggiano un bel po' tutta gente che fa cross country con le muscolari in salita vanno su come il palle da schiopo la salita è quasi conclusa e tra un po' ci accingeremo ci accingeremo a fare la discesa il terreno del pietrellata è roccioso gli scorsi giorni ha piovuto quindi c'è anche parecchio fango ma con le gomme 2.6 va tutto bene il gruppo lo sto riprendendo piano piano siamo quasi arrivati in vetta il comportamento della Caneva 2020 in salita è esaltante la batteria naturalmente oltre che essere più potente ha anche più durata del modello 2019 bene che adesso la salita è finita con l'impegnativa ci vediamo alla prossima discesa ciao bene bene sono dovuto ritornare in cima ormai il gruppo l'ho perso questa è la Maddi sono devastato mi sono fatto una salita quasi da DH fortuna che ho l'elettrica e questa è la mitica Maddi che mi hanno detto che è stupenda adesso la faremo prima volta il terreno è tutta terra è scivoloso l'unica cosa è che ho i freni invertiti io di solito quindi questi sono standard e devo andare un saltello che non ho preso adesso voglio riprendere anche il gruppo ma ormai è tardi vediamo un po' come si comporta la cheneo in discesa oh qua c'è un bel dorso qua c'è tutta discesa pericolosa quindi andiamo tranquilli bellissimo try questo prima volta che lo faccio il terreno è molto fangoso quindi insomma mi sono perso terreno fangoso freni invertiti ma il divertimento è sempre assicurato è l'adrenalina scorra fiumi real tv salto oh l'armati mi piace molto a conoscerla ci si divertiva farla naturalmente ho scollegato la batteria the wall il muro bello sempre in discesa in mezzo al bosco la maddi è veramente da rifare con la mia e con il terreno un po' migliore finalmente sono riuscito a fare questa maddi di cui si intanto parlare il terreno un po' migliore fortuna che non ha piovuto cioè i giorni scorsi è piovuto ma oggi no se no con il terreno così era quasi impraticabile farla maddi specialmente nei punti critici pericolo cartello vediamo si cova giù prima primo simbolone ma ci sta ok questo è in diretta ragazzi qui è naturalmente ho sbagliato pinzello di freno e questo è il risultato non mi sono fatto niente la chenevo non si è fatta niente continuiamo a andar giù la discesa è veramente tosta con i freni invertiti è veramente difficile ecco qua da qui un altro muro dove ci andrà qui? dritto? penso di sì qua sempre dritto la maddi veramente bella e tosta mi sbaglio sempre coi freni ma imparerò al prossimo scivolone bellissimo trail è veramente piaciuto e ancora non è finito un'altra discesa stavolta modulo mai gli freni perché sennò mi si impunta davanti perfetto oh bella la maddi un altro punto brutto mi devo ricordare dei freni grande l'ultimo tratto ok qua penso destra sinistra maddi veramente eccezionale bene bene a me è piaciuto ci vediamo al prossimo trail ciao pelve io devo recuperare gli altri ciao ragazzi bene altro trail altra emozione il gruppo ormai l'ho perso questo dovrebbe essere il trail che mi porta a casa spero ha detto che bello impegnativo e lo faremo sì è questo miracolosamente ho ritrovato la strada di casa devo riportare la bici per le 10 e mezza veramente la canevo è un mezzo spettacolare il pezzo finale le rocce bagnate terra fango insomma una bellezza devo dire veramente bello da qui allora si va di qua e via che si riparte bellissimi questi trail in mezzo a tutte le rocce naturalmente la canevo si mangia tutto non ha problemi il problema e non sapere dove è la strada ci sono un sacco di linee un sacco di sentieri qui andiamo sempre a modulare bene il freno davanti questo tratto ha un'aria familiare mi sa che l'ho fatto per venire su forse giù si va giù si va giù si va piano bellissimo questo punto rocce rocce, fango acqua, stupenda impietralata mi piace veramente no, ho anche bucato non ci credo non ci credo ragazzi, è bucato oggi mi ha giornato un po' così con questa che nevo bisogna che stacco la batteria ragazzi è bellissimo qua ma devo lasciare un po' di un po' per si deve telefonare ciao Belve, ci vediamo dopo bene, siamo tornati qui a Mondobici per il secondo turno la mia che nevo comp la mia che nevo expert la mia, insomma sono in ritardissimo è videota così c'era fango insomma tutto quello che ci deve essere la giornata è stata stupenda è stato un bello divertimento io mi sono trovato veramente bene e che dirvi ciao Belve lavaggio bici dopo due ore di fango pronta per il secondo turno è uscito anche il sole ebbene voi pensate che le sorprese sono finite e invece no ho una sorpresa che vi aspetta state qui incollati perché l'adrenalina scorrerà fiumi ciao Belve rieccoci a noi cosa vi posso dire nonostante il fango il terreno scivoloso che ho bucato mi sono perso nonostante seguisse un gruppo mi sono ribaltato perché ho sbagliato il freno è stata veramente una giornata epica mi sono divertito la grande la che nevo expert è veramente eccezionale adesso devo solo convincere la mia moglie a così ad aggiungerci 3500 euro per comprarmela un anno di stipendio dicendogli che posso essere un marito un padre e un biker migliore sicuramente la convincerò gli farò pietà mi getterò ai suoi piedi e pregherò che mi faccia questo bel regalo ma vi ho promesso una sorpresa qual è questa sorpresa? eccola qua qui dentro c'è uno dei regali più belli che mi abbiano fatto è un pezzo unico me l'ha regalato un mio fans da anni scannato che mi doleggia no è un mio amico questo è un pezzo unico l'ha potente ammirare bellissima stupende grafiche una disinvolt not too fast not too slow che ancora non so cosa significa ma guardalo su internet perché lui è più bravo di me in inglese bellissime con grafiche fox e naturalmente il marchio della Specialized io ho timore di metterla perché ho pura di lovinargo ma prima o poi la metterò adesso arriva verso l'inverno quindi la terrò in cassaforte e la metterò il prossimo anno io vi saluto è stato bello farvi emozionare come mi sono emozionato io naturalmente noi ci vediamo nel futuro ciao ragazzi